No, io non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, abbiamo perso questa partita 1-0, con due tiri in porta, due tiri in porta, abbiamo perso 1-0, tra l'altro il gol è venuto sull'assist De Perisic praticamente, perché recuperando su Belotti la passata De Silvestri, De Silvestri l'ha messa al centro, c'era Iaic solo, gol dell'ex, ha segnato Iaic, Ma noi, con 20 calci d'angoli, una traversa, un palo, più una marea di parate di Sirico, non siamo riusciti a vincere questa partita, non a pareggiare, a vincere, perché il pareggio non è che ci andava stretto, De più, no, non bastava, abbiamo perso, perso, io non ci posso credere, abbiamo perso sta partita, abbiamo perso sta partita, ma come si fa? Poi dico comunque, no, su 20 calci d'angoli, 20, un cross bello, 1, non l'abbiamo saputo fare, 1, un cross bello, 0, su 20 calci d'angoli non siamo stati capaci di fare un cross degno, questo non va bene, non è possibile, no? Noi non ci posso credere, ragazzi, abbiamo perso sta partita dominata dal primo all'ultimo minuto, il Torino non ha fatto niente, niente, tranne la parata di Andanovic su un tiro che se l'ha inventato De Silvestri, che non sarà nemmeno lui come ha fatto, che lui lo voleva stoppare quel pallone all'indietro, sarà nemmeno lui come ha fatto, è venuto a fare un tiro sotto l'incrocio alla presa Andanovic, e il gol dei Aic, praticamente a porta libera, che lo facevo pure io, basta. Noi, la parata di Sirico sotto l'incrocio, tutte le varie parate su Candreva, i colpi di testa, e la traversa di Persic, e il palo di Rafinha, che poi Rafinha, Rafinha, capitolo Rafinha, perché non ha giocato dall'inizio? Ok, non era al top, però quel secondo tempo, quella mezz'ora te l'ha fatta, quindi un primo tempo e uno spezzettone del secondo tempo, potevi farglielo giocare, ok? Non è che non gioca da parecchio tempo, l'anno scorso non ha mai giocato, però è fondamentale quest'anno, deve giocare per forza, Borca Valero non ti dà quella cosa in più che ti dà Rafinha, deve giocare per forza, c'è poco da fare, deve giocare, infatti è entrata, ha cambiato la partita, che tra l'altro stiamo già giocando bene, però è entrato lui, abbiamo cominciato a creare molte, molte più occasioni, e invece, Spalletti oggi, non l'ho capita questa cosa, ne mette Borca Valero, ma lasciando stare questo, che non è che oggi abbiamo perso per colpa di questa cosa, assolutamente, abbiamo perso perché oggi, oggi, siamo stati, no sfigati, di più, di più, no ditelo voi, poi veniteci a dire che ci abbiamo culo noi, ma se ci abbiamo culo noi, le altre che so, credibile, Cioè, se noi abbiamo culo, le altre, noi, noi abbiamo culo, noi, noi, gli altri se lamentano dei pari, e noi che siamo i primi, 21 pari stagionali, Che tocca di? Che tocca di? Sto cazzo le Sirigu, portarci i suoi le Sirigu, c'è se crede, Sirigu de merda, mamma mia, sta con le stampelle, va all'ospizio domani, oggi ha fatto le paratone, incredibile, incredibile, ma fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questa partita, Io, poi, pericici, c'è una cosa dei pericici, io non lo so, questo qui, purtroppo, ragazzi, anche se da oggi, fino alla fine, fa delle partite, è mozzafiato, non è un giocatore continuo, non è un giocatore che, te può fare la differenza, c'è poco da fare, perché è un giocatore che, una mezz'ora ti gioca bene, l'altra mezz'ora scompare, anzi, fa solo il male, perché perde palloni, fa falli inutili, non me ne azzecca più un passaggio, e poi non viene mai levato, non serve a niente, il giocatore così, al momento dopo non serve a niente, se gioca così, non serve a niente, vabbè, va, non mi sento di dire, vabbè, Brodo ci ha giocato bene, ma più o meno, ma hanno giocato tutti bene, ragazzi, tutti, tranne qualcuno più o meno male, però più o meno tutti bene, dai, più o meno tutti bene, e oggi ne ha voluto entrare, punto e stop, Torino culone, Torino, Torino culone.